se io voglio adesso aggiungere un desiderio come aggiungo un desiderio al punto mio cuore solo attraverso il gruppo perché se non è più il gruppo aggiungerai al mio cuore il tuo desiderio egoista e questo non va a funzionare la luce superiore non ti permetterà di lavorare con questo tu hai bisogno con gli amici con la preghiera di connetterti con loro tu così aggiungi per mezzo a questi desideri e questi desideri che loro accompagneranno il punto nel cuore allo scopo della creazione della vita non sono gli stessi desideri che cioè i desideri possiamo dire meglio dirlo così i desideri che tu aggiungi al punto del cuore non si trovano in te i desideri che tu lavori con gli amici mi prendi da loro perché tu vuoi accumulare tu devi ricollegare tutti questi desideri che sono caduti dalla tua anima estrati della tua anima nella rottura del peccato della conoscenza deve ricollegare di nuovo per questo ti connetti con gli amici con l'ambiente e precisamente attraverso i tuoi desideri egoistici e i suoi desideri egoistici se cominciate per mezzo della luce che riforma a catalogarli come dire aggiungerli ai desideri appunto nel cuore così si va crescendo e aggiungendo carne a questo cosa vuol dire non cercare in te stessi desideri che possono correggersi e aggiungerli al punto del cuore non si trovano in te in questo modo però se tu esci verso di loro verso gli amici al gruppo la connessione con gli altri e attraverso dell'amore degli altri solo puoi attrarre la luce che riforma e aumentare la tua anima che include tutti i desideri che sono fuori di te questo significa gli organi separati o caduti dalla rottura del clip che c'è stato fuori di te non sono i tuoi desideri corretti si trovano in una forma così basica come dire ma non per aggiungerli appunto nel cuore il punto del cuore è riceve un rivestimento ma si aggiungono a lui desideri che arrivano attraverso della connessione attraverso del lavoro col gruppo con gli amici questi desideri che tu non comprendi come funzionano ma con gli sforzi vostri che riforma insieme fa ricollega i desideri li lega li testa insieme in una forma speciale e allora li riveste sul punto nel cuore di questo ne fa un parzuffo grazie